Questo è il casco del campione del mondo della MotoGP, l'8 volte campione del mondo, Mark Marquez, ovviamente marchiato a Shoei. Noi siamo qui al loro stand a EICMA 2019 in compagnia di Fabian Narizuka, country manager di Shoei Italia, che ci mostrerà le due novità proposte qui al pubblico, ovvero l'integrale vintage Glamster e il jet urbano J.Cruise 2. Eccoci allora con le novità di quest'anno di Shoei, sono due novità. La prima è il jet erede del J.Cruise 1 e il J.Cruise 2, un jet urbano per un utilizzo comunque anche fuori città, essendo considerato un maxijet, visiera lunga, viserino parasole integrato. In novità rispetto al J.Cruise 1 naturalmente una calotta ridisegnata completamente per poter avere un maggior flusso d'aria, una migliore aerodinamica e la possibilità di integrare il sistema di comunicazione Sena SRL2, che negli ultimi anni è un distintivo dei prodotti touring di Shoei. Prodotto in tre misure di calotta esterna, è disponibile in cinque varianti monocolore e in sei varianti grafica. Il prezzo a partire da 469 euro, disponibile dalla fine di questo mese. La seconda novità di Shoei per quest'anno è il Glamster. Mancava solo un integrale all'appello nel settore heritage e vintage ed eccolo qui. Una calotta compatta che ripropone le linee anni 80 per poter essere utilizzato con le moto che vanno in voga adesso, un po' modaiole, tra scrambler e caffè racer. Quattro misure di calotte, una tecnologia comunque moderna, anche se con un look retro. Le disponibilità dal punto di vista cromatico sono cinque varianti monocolore e tre varianti grafiche. Il prezzo a partire dai 449 euro al pubblico, disponibile dalla fine di febbraio 2020. Grazie. 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 Grazie.